per i trovati con il nostro asterisco sono partite le prime multe per i novax e quindi nonostante il cambio di rotta, il cambio di governo con un governo decisamente di destra e quindi questo a calmirare queste multe e tutte queste regole che ci siamo impiti dire e dare nel corso degli ultimi mesi con il precedente governo Draghi in effetti cambia ben poco a livello di multe, di sanzioni di chi ha deciso di non vaccinarsi. La Lega a dire il vero ha provato a rinviare, a cambiare un po' le carte in tavola all'ultimo minuto ma non c'è riuscita. Intanto è stata la Covid in Lombardia non solo ma in Lombardia soprattutto c'è l'influenza che però c'è stata la conferenza stampa dell'assessore UEF Guido Bertolaso che sapete ha preso il posto in corsa dalle ultime settimane di Letizia Moratti. Andiamo a vedere insieme proprio quello che vi stavo dicendo prima. Partono le prime multe i novax, scrive il Corriere, la Lega prova a rinviarle di nuovo. Consegnata alle poste la prima tranche di raccomandate per gli over 50 che non avevano rispettato l'obbligo vaccinale. Il tentativo di rinviare le sanzioni al 30 giugno 2023 e Romeo che dice speriamo di portarle in porto entro la fine dell'anno. Comunque sono quasi 2 milioni i novax, oltre 50, che da oggi dovrebbero ricevere questa multa di 100 euro per non avere rispettato l'obbligo vaccinale. E' stata consegnata a poste questa prima tranche di sanzioni perché proprio oggi, 30 novembre, scadono i termini 180 giorni passati per giustificare il mancato adempimento all'obbligo vaccinale per motivi sanitari o perché nel frattempo si era contratto il virus. E chi sono appunto i destinatari? La sanzione si applica agli ultracinquantenni che dall'8 gennaio scorso fino al 15 giugno non si erano vaccinati, ma anche a medici e operatori sanitari, lavoratori impiegati nelle strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori che sempre alla data del 15 giugno non avevano iniziato il ciclo vaccinale primario, non avevano ancora effettuato la seconda dose o che non avevano ricevuto la dose booster entro i termini di validità del Green Pass. A dire il vero c'è ancora una possibilità, anzi due, che queste sanzioni vengono bloccate, una passa per la Corte Costituzionale che è chiamata a decidere sulla legittimità dell'obbligo vaccinale introdotto nel 2021 come strumento per arginare la pandemia da Covid e seconda della Lega il tentativo di congelare fino al 30 giugno 2023 le multe previste per gli over 50 non in regola con gli adempimenti vaccinali. Comunque una previsione che si voleva inserire nel cosiddetto decreto aiutiter e poi era stata rinviata. Voglio farvi vedere intanto però in contrapposizione a questi no-vax anche il Covid come sta proseguendo il suo corso perché è vero che tutti liberi, tutti senza mascherine però il Covid continua, infatti molti si ammalano e lo sentirete anche tra parenti e amici e si chiedono ma come va io sono stato, ho fatto la quarta dose oppure io ho già dato in passato, non importa, la variante 4 e 5 di Omicron non fa sconti, li fa la quarta dose ovviamente perché magari può prenderla in modo asintomatico, in modo sicuramente leggero rispetto a chi magari ha fatto solo due o tre dose e addirittura non ne ha fatte. Però ecco qui i dati sono chiari perché arrivano dalla Fiaso che c'è questo nuovo balzo di ricoveri in una settimana più 19,5% o meglio aumentano del 20% scrive il Tgcom i pazienti nei reparti Covid ordinari mentre le terapie intensive registrano un aumento più ridotto pari al 9%. Questi sono gli ospedali sentinela della cosiddetta rete Fiaso su cui ci appoggiamo sempre in questi due anni li avrete sentiti già nominare più volte. peggiora l'andamento dei ricoveri con sindrome respiratorie e polmonari per i non vaccinati, i non vaccinati che salgono oltre il 28% nei reparti ordinari e sopra il 30% nelle intensive. nelle rianimazioni inoltre è da notare la notevole differenza d'età di più di 10 anni tra vaccinati e non vaccinati, la quieta media è decisamente giovane, 60 anni circa e nel 100% dei casi si tratta di pazienti se vaccinati se non vaccinati fragili, ovvero affetti da altre patologie. complessivamente sono 22 pazienti sotto i 18 anni ricoverati per o con Covid nei quattro ospedali pediatrici nei reparti di pediatria degli ospedali sentinella Fiaso. E poi questa settimana tre bambini nella fascia tra 0 e 6 mesi in rianimazione per Covid mentre da diverse settimane tale reparto era privo di pazienti con sindrome respiratorie e polmonari. Comunque ecco qui il presidente di Fiaso Giovanni Migliore che dice non dobbiamo più parlare di quarto o quinta dose nel rilanciare l'importanza delle vaccinazioni ma dobbiamo considerarla una vaccinazione stagionale, dobbiamo abituarci a effettuarla con l'arrivo dell'inverno come facciamo con l'anti-influenzale. A proposito ecco qui vado sul Corriere Milano perché c'è il monito dell'assessore all'Uelfar Guido Bertolaso che dice l'influenza in Lombardia quest'anno ci preoccupa più del Covid perché? Perché ci sono ancora pochi vaccinati, un milione e quattrocento mila. Questi sono dati sulle somministrazioni dal 12 ottobre al 23 novembre in crescita rispetto all'anno scorso. L'assessore dice la copertura degli over 65 al 36% ancora bassa quella nella fascia 0-15 anni. Ecco qui la conferenza stampa in cui appunto Bertolaso ha detto il Covid ora in Lombardia siamo più preoccupati per l'influenza. Allora andiamo proprio a sentirlo con Lombardia Notizie spiega proprio perché è importante vaccinarsi contro l'influenza. Perché è il modo più sicuro, più certo di non contrarre l'influenza. Quest'anno rispetto anche agli anni passati l'influenza è particolarmente fastidiosa, crea diversi problemi alle persone, costringe a lunghi periodi di degenza in casa per questo tipo di situazioni, crea difficoltà a tutta la società perché poi ovviamente abbiamo problemi nei posti di lavoro, nell'attività scolastica e tutto il resto. Quindi la vaccinazione che è assolutamente innocua, è sicurissima, è l'unico modo per fermare e diffondere di questa situazione anti-influenzale. Anche perché lei spiegava in conferenza stampa è importante oltre che per i bambini, per gli anziani, ma per evitare ad esempio le code o la confusione nei pronti soccorso. Tanta gente va al pronto soccorso perché magari ha l'influenza e se fosse vaccinata tutto questo ce lo potremmo risparmiare. Assolutamente, è un motivo in più. Oggi quando abbiamo 37,8, 38,2, 38,9 se non riusciamo ad abbattere la febbre con un'aspirina o qualcosa del genere, cerchiamo il medico. Se magari durante il weekend o in un momento particolare della giornata non riusciamo ad avere contatto con il medico di famiglia, prendiamo e andiamo al pronto soccorso e intasiamo i pronto soccorsi di quei classici codici bianchi che poi sono costretti anche ad aspettare parecchio tempo. Quindi un disagio per chi lavora nel pronto soccorso e un disagio per chi va al pronto soccorso e potrebbe farne a meno, soprattutto vaccinandosi. E così appunto a Lombardia Notizie l'assessore Bertolaso che appunto spiega poi anche su Malpensa 24 in Lombardia preoccupa l'influenza colpiti di più i bambini. Ecco qui abbiamo dei dati maggiori perché nella settimana 14-20 novembre 137.887 persone in Lombardia hanno registrato una patologia simile influenzale che da inizio settembre invece di 911.726 persone. Purtroppo, dice Bertolaso, proprio la fascia dei bambini è quella che ha la copertura più bassa e questo nonostante le iniziative messe in campo dalla regione e dalle aziende del territorio come la sperimentazione della vaccinazione con spray nasale nelle scuole. Quest'anno, tra l'altro, la vaccinazione, ricordiamo che dal 26 novembre, è offerta gratuitamente non più solo ai soggetti considerati a rischio ma a tutti i cittadini, come per quella anti-covid anche quella anti-influenzale può essere ricevuta oltre che presso i medici di base anche in farmacia. Per prenotarla basta collegarsi al sito www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it e quindi dobbiamo cercare di dare una mano ai medici, agli infermieri, ai medici di medicina generale diamo una mano anche a tutti coloro che poi si trovano in pronto soccorso, l'avete sentito, si fanno delle lunghe code, spesso con un codice bianco. Se influenzati probabilmente non ci sarebbe bisogno di andare in pronto soccorso ma basterebbe semplicemente avere le classiche terapie che si possono prendere direttamente a casa. Ma se influenzati con un anti-influenzale sicuramente si rischia banalmente il classico raffreddore e niente di più. Ed è importante soprattutto ricordare le persone fragili perché vedete che qui i numeri nelle RSA, RSD quindi residenze sanitarie e assistenziali, case di riposo, residenze sanitarie diurne e centri diurni su 55.640 ospiti ne sono stati vaccinati 41.011 con una percentuale pari a 73,7%. Questo perché? Perché l'influenza rischia di creare grossi danni a loro ma anche noi rischiamo di creare grossi danni a loro se li andiamo a trovare nelle case di riposo i nostri genitori, i nostri nonni per esempio e abbiamo l'influenza, non abbiamo delle barriere, non abbiamo delle protezioni. Io lo dico sempre, pensiamo prima a loro e poi a noi. Evitiamo di essere egoisti e cerchiamo davvero di darci tutti quanti una mano, indipendentemente dal fatto di essere vax o no vax, proprio pensando anche e soprattutto ai più fragili e poi anche a noi. Grazie per essere stati in nostra compagnia anche oggi con il nostro asterisco dedicato ai temi della sanità. Arrivederci. Grazie.